Amministrare con la famiglia è il corso per amministratori e funzionari dei comuni della provincia di Verona organizzato dall'Associazione delle Famiglie di Verona. Siamo arrivati alla seconda edizione. L'appuntamento, il primo di questo corso, è stato la settimana scorsa. Per parlarne abbiamo con noi al telefono il vicepresidente dell'AFI di Verona e anche della Confederazione Italiana, Daniele Udali. Grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Vogliamo parlare una volta alla settimana sempre, quindi avvisiamo tutti i nostri radioascoltatori di quello che è stato detto nei singoli incontri che saranno nelle prossime settimane, tutti i mercoledì sera. Questo primo incontro chi ha avuto come relatori o relatrici e qual è stato l'argomento affrontato? La relatrice è stata la professoressa Giovanna Rossi, che è professore di Sociologia della Famiglia all'Università Cattolica di Milano, che aveva come tema quello di famiglia, politiche familiari e welfare community. Un po' insomma un incontro iniziale per definire concetti, terminologie, contestualizzare l'ambito in cui ci muoviamo per il nostro corso. Fra l'altro ricordo a tutti coloro che sono ascolto che tra pochi minuti avremo gentilmente a telefono con noi anche la professoressa Giovanna Rossi per scendere un po' meglio nel dettaglio di quella che è stata la serata. Quanto anche si affronta e come bisognerebbe affrontare la gestione della famiglia, anche dal punto di vista politico, la gestione della società partendo dalla famiglia come centro importante, pensando un po' alla politica attuale anche per esempio della situazione di Verona o comunque della maggior parte delle città italiane. Quanto viene fatto in questo senso e quanto c'è ancora da fare? Ci sono, dobbiamo dire, già buone iniziative di politiche che siano effettivamente a misura di famiglia, però ne parliamo sempre in termini abbastanza sperimentali. Infatti lo scopo del nostro corso è anche quello di farle conoscere e di fare in modo che siano sempre più diffuse e vengano, mi faccio dire, anche copiate da altre amministrazioni perché se c'è qualcosa di buono in giro che viene fatto in questo senso è bene che venga replicato e a questo noi dedicheremo in particolare la seconda parte del corso. Dico in tema sperimentale perché in realtà molte delle iniziative che si fanno hanno carattere assistenziale e noi non neghiamo la necessità che venga fatta tutta un'attività anche di assistenza nei confronti di tante categorie, però quando si pensa alla famiglia ne dovremmo pensare in termini più unitari, cioè di un soggetto che ha una vita propria e che può essere una grande risorsa e che quindi ha molto da esprimere nei confronti delle altre famiglie e anche delle stesse amministrazioni se viene messo in condizione di farlo. L'argomento affrontato dalla professoressa Giovanna Rossi è molto importante, poi ne avete parlato anche tra le persone, diciamo noi tra pochissimo avremo al telefono con noi la professoressa, al termine avete potuto fare anche un'assemblea finale alla ricerca delle tre parole? Sì, abbiamo caratterizzato l'incontro così come vorremmo fare ogni volta, sia con la relazione sia con un lavoro fra i partecipanti, un lavoro di gruppo oppure un lavoro diciamo in assemblea e questa volta, benché il tempo fosse poco, la professoressa Rossi ci ha ingaggiato chiedendoci di definire quali sono le tre parole che ci vengono in mente pensando a progettare con le famiglie. Tenendo conto che il pubblico era fatto di amministratori e funzionari dei comuni, diciamo era una domanda molto pertinente, il lavoro è andato molto bene. Quanto è stato gradito questo lavoro e il risultato è stato comprensibile alle persone? Certamente, è stato un modo per riappropriarsi un po' delle cose che la professoressa aveva detto ed è stato un lavoro molto vivace in cui le persone hanno partecipato volentieri, sono uscite oltre una trentina di parole, c'è stata anche qualche buona coincidenza come condivisione, sussidiarietà, dialogo, conoscenza del territorio, ascolto, coinvolgimento, parole e ambiti che significano una certa sensibilità anche dei partecipanti nei confronti del tema famiglia. Tra pochissimo scenderemo quindi nel dettaglio di questo argomento con la professoressa Giovanna Rossi, docente di sociologia della famiglia all'Università Cattolica di Milano. In chiusura ci puoi dire come sarà l'incontro di mercoledì? Mercoledì prossimo avremo un altro docente dell'Università Cattolica, la professoressa Elisabetta Carrà e parleremo di strumenti per una politica condivisa con la famiglia. In particolare vogliamo mettere proprio il focus su associazionismo familiare, su sussidiarietà, su altri operatori, le scuole, i medici, i pediatri e alcuni strumenti istituzionali come gli assessorati per la famiglia, le agenzie per la famiglia, le consulte, gli sportelli, gli osservatori. Insomma tutto un complesso di soggetti e strumenti che possono contribuire a realizzare buone politiche per la famiglia. Quindi l'incontro sarà mercoledì a che ora e dove? L'incontro è mercoledì 23 marzo alle ore 20 e 30 presso la Sala Lucchi in Piazzale Olimpia 3 a Verona. è ancora possibile per i soggetti che indirizziamo con il nostro corso iniziare a partecipare. Grazie tante quindi a Daniele Udali, vicepresidente dell'Associazione delle Famiglie di Verona e della Confederazione Italiana. Grazie per essere stato con noi e alla settimana prossima. Grazie a voi e spero di ritrovarvi in questo appuntamento.